Eccoci con Luciano Lari, l'amico della Virtus Gambassi, il direttore sportivo, insomma direi il riferimento per la società della Virtus Gambassi che a livello del settore giovanile sta lavorando bene. Allora siamo qui che abbiamo appena seguito la finale terza e quarto posto dei tuoi 2007 che sono stati un po' la grande sorpresa di questo torneo. Anche per me devo dire perché... Ah, è il primo che non te l'aspettavi, sei il primo. Sì, sì, sinceramente sono felice per questi ragazzi perché hanno ottenuto un risultato importante secondo me, già arrivare nelle prime quattro per noi è veramente una cosa stupenda. Insieme ad altre società importanti della legione anche. Insieme a tante altre società molto più attrezzate, diciamo, di Gambassi sicuramente. Come sempre ringrazio l'organizzazione perché è perfetta, è tutto. E niente, sono al settimo cielo per i risultati di questi bambini, davvero. Il mister, i ragazzi, i dirigenti hanno lavorato molto 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 bene. Senti, quindi la realtà in crescita, che ci dici per il futuro? Che cosa bolle in pentola? La società Gambassi sta facendo una forte collaborazione con Montaione perché, diciamo, a parte delle voci non belle, incontrollate, che ci danno per morti, una società fallimento. Stamattina invece qui vedo che siete vivi e vegeti. Siamo vivi. Anche tanti genitori, tanto pubblico che vi segue, entusiasmo, nonostante anche la sconfitta di stamattina, ma questo non cambia niente. No, no, ma i genitori per prima sono coscienti del risultato e molto importante di questi ragazzi e come dicevo siamo in crescita perché avremo modo di collaborare con una società vicina a noi, una società amica, con due campi sintetici già da inizio dell'anno prossimo e con più pulmini, più persone che seguiranno questi ragazzi e avremo modo di seguirli ancora di più, preparatori atletici, preparatori repartieri, professionisti, non vi faccio nomi perché non... Aspettiamo di avere poi tutti i nomi, eh? Al momento ci sarà l'ok, diciamo, e... Ci comunicherete? Sarete i primi a cui lo dirò. In ogni caso, ecco, che nessuna voce disfattisa su di voi, anzi, eh? Anzi, no, 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 devo dire che siamo vivi, siamo vivi e stiamo lavorando... Profondamente? Profondamente anche per migliorare le squadre, per cercare di ottenere risultati sempre più belli. Come quello ottenuto qua all'amico. Come quello ottenuto qua, ma anche con i più grandi e ancora anche con quelli più piccolini ancora, perché l'anno prossimo spero a questi minicap di poter mandare veramente un 2008 veramente importante. Benvenuto, carino, veramente importante. Perfetto, perfetto, ciao. Allora l'appuntamento al futuro, aspettiamo le notizie sui nuovi incarichi, intanto complimenti per questo bel 2007. Grazie, un saluto a tutti.